Grazie a tutti. Io non dormirò stano. Ma va? Ma come ci dai il lavoro? Ma come ci dai il lavoro? Ma come ci dai il lavoro? Io non voglio entrare in questo lavoro. La calzata non è finita. Ma tu ci dai il lavoro? Cioè, lui è il nostro capo. Ma come ci dai il lavoro? Guarda che ti dai la cintura di frutto. Almeno questa soddisfazione. Tu e la tua cazzo di gazzetta. Digla, Mauro. Tu e la tua cazzo di gazzetta. Tu e la tua cazzo di gazzetta. Adesso siamo uno contro uno. Ma ce ne ha mai 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 mai. non c'è la mia ahahahah non c'è la mia è uscito fuori o è l'edita che si è giù al petto no no io gli temo sono una copertata del futuro mettiamoci la cintura che è meglio guarda lei, voglio forse non guardarmi, capite? guarda lei, guarda lei no uuuuh è finita, è finita no, è finita